Una versione mattutina per la signora Valenti. Ho quest'anno sezione 10 in qualità di elettrice, ma anche di candidata a sindaco. Non le chiede a chi vota? No, proprio no. Penso che non sia il caso di chiedermi a chi vota. Ad ogni modo, che campagna elettorale è stata? Per me è molto bella. È stata per me un'avventura bellissima perché mi ha consentito di conoscere tante persone, di conoscere tanti mondi e devo dire che io l'ho vissuta con grande entusiasmo, quindi molto bella. Fabio Termine, ha la prima esperienza come votante ma anche come candidato? Sì, la prima esperienza come votante e come candidato. Sarà una bella esperienza anche vivere questa giornata fatta di tante emozioni, vissuta con le persone a me care, quindi sicuramente sarà una bella giornata entusiasmante. Che campagna elettorale è stata? Guarda, da parte nostra è stata una campagna assolutamente entusiasmante, una campagna fatta per le strade, fatta a casa delle persone, fatta di tante piccole cose che ci hanno dato tanto. Per esempio, vedere tanti ragazzi di 20, 21, 22 anni, ringraziarti per quello che stai facendo, secondo me è qualcosa di bellissimo. Ministretta, siamo qui nella sezione dove tu andrai a votare, quella è la sensazione anche di votarsi. Certo, è un'esperienza nuova quella di votare per se stessi. Le sensazioni sono molto buone, è stata una bella campagna elettorale, abbiamo fatto del nostro meglio, per cui stasera vedremo i risultati e il raccolto di quanto seminato. Le sensazioni sono più che buone. Stefano Scaduto, non è nuovo a questa esperienza da candidato a sindaco, però è il contesto forse diverso? Il contesto è diverso? Sì, parrebbe di sì, pare che ci sia una voglia di cambiamento in città, vedremo se questa voglia di cambiamento si esprimerà concretamente. Che campagna elettorale è stata? Contendere il ruolo di candidato con altri quattro candidati? Una campagna elettorale, per quanto mi riguarda, fondata sui contenuti. Diciamo che abbiamo fatto una campagna elettorale di ragionamento, di contenuti, di programma. Abbiamo spiegato perché votare per noi, quindi tutto sommato è stata per noi una campagna elettorale intensa, ma al tempo stesso fondata sui contenuti. Presidente, dunque il momento è arrivato? Sì. Qual è stato d'animo? Sono molto sereno, vado a fare il mio diritto, dovere, che poi è l'esercizio del voto, però sono molto sereno, consapevole di avere fatto una campagna elettorale al meglio delle mie possibilità. Poi sarà la città a decidere qual è il primo cittadino. L'auspicio è che intanto la città decida con la propria testa e non con la pancia, come si dice in gergo, perché ritengo che sia stata una campagna elettorale in cui si è parlato molto di contenuti, con diversi dibattiti, incontri con i comitati di quartiere e con le attività commerciali. C'è qualcuno, secondo me, che è uscito un po' fuori dalle regole, ma ci sta anche questo. Grazie a tutti.